Dalla mia nomina come quale garante mi sono subito interfacciata con la dottoressa Rita Greco perché dall'esame, dal quadro ovviamente sanitario andiamo a individuare quelle che sono anche le problematiche sociali perché è un problema di noi genitori e che è quello, spesso non vogliamo cogliere il disagio dei nostri ragazzi e da un'indagine che ho fatto, riferimento ultimamente alla dottoressa Greco, dal segmento, abbiamo fatto 2015-2020 e purtroppo sono emersi dati critici di un fenomeno di un aumento per quanto riguarda la fragilità psicologica dei nostri ragazzi che ovviamente si riflette su tutte quelle che sono gli innesti dall'anoressia, disturbi alimentari, l'assunzione di droga, le dipendenze social insomma abbiamo un quadro importante, poi l'altro che questo è un tavolo che vuole esaminare è anche le problematiche ovviamente proprio sanitarie bambini oncologici e abbiamo l'opera eccellente di Tumini per quanto riguarda i bambini diabetici che ne abbiamo circa 700 in Abruzzo e da considerare che i genitori purtroppo sono poi prigionieri di un sistema in ambito scolastico che devono sempre gravitare intorno ai figli per problemi che possono avere all'interno scolastico invece dovrebbero essere tutelati stesso, vincolati da questo quindi io credo che le mie precedenti dichiarazioni così confermate da oggi abbiamo anche problemi per quanto riguarda l'aspetto cardiologico dei ragazzi ci sono casi di morti improvvise e quindi un'analisi complessiva io evidenzio che la mia dichiarazione precedente che era proprio rivolta alle problematiche sociali è stata decontestualizzata in modo ovviamente improprio da genitori che hanno figli con la dipendenza sono certa che un giorno ci ringrazieranno perché noi siamo il primo tavolo regionale a livello nazionale che affronta in modo concreto la tutela della salute e ribadisco dei nostri ragazzi è un richiamo alla responsabilità genitoriale un mio ringraziamento va al presidente della regione Marco Marsilio e al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che con un'attuazione di una politica illuminata va a investire e credere realmente nel futuro della nostra società, del nostro paese che sono i ragazzi